E dunque signori, buonasera, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo ritornati nella serie di Outlast, per finirlo, per com'è stato con X-File The Game. Su e giù mancheranno 3-4 episodi alla sua conclusione. Oggi però, signori, abbiamo una novità. Ebbene, signori, finalmente, e ringrazio lo youtuber Aracris, abbiamo una intro. Ma lasciate che vi presenti Aracris. Aracris è uno youtuber che porta nel suo canale bellissimi video fatti in computer grafica, tra cui la intro che i vari youtuber gli commissionano. Passate dal suo canale ed iscriveteli perché è un ragazzo che a mio parere merita, poiché porta dei bellissimi contenuti. La intro che tra poco vedrete è stata appunto fatta da voi. Ed io, The Wolf Official, lo ringrazio nuovamente. In descrizione a questo video vi lascerò i link del suo canale YouTube e quello di Facebook. Grazie Aracris, sei un grande. Signori, lui era Aracris, la persona che ha fatto la mia intro, che ringrazio nuovamente. Vi invito a iscrivervi al suo canale perché, come ho detto del filmato, è un ragazzo che merita. Ebbene, signori, direi di procedere con il video, di andare al gioco, ma prima iniziamo con la nuova intro. Signori, via! Ok, signori, eccoci qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Io spero che la nuova intro vi sia piaciuta. Io sinceramente, quando l'ho vista, sono saltato in aria perché la bellezza era troppa. Non sto scherzando. Sono rimasto molto colpito. Ero insonnacchiato da un'occhi che avevo preso. Quando Aracris mi ha passato la prima bozza di quella che sarebbe stata la mia intro, mi sono svegliato di botto. Vediamo se dimentichiamo nulla. Mi sarà caduta la webcam che non me la fa pigliare. Ah, no, niente, era solamente buggato. Nice! Che bello! A quanto pare non c'è altra strada da fare. A quanto pare non c'è altra strada da fare. Non credo che mi devo nascondere. Va bene. Ah, ma c'è un buco. No! Nascondiamoci. Ah, dove tavolo è? Tocco, ho trovato. Tocco, ho trovato. Vi c'è un po' mappa. Ci avesso troppo tempo. ciao mannaggia 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 a me ecco bravo resta là e va a fare il bravo ragazzo mannaggia come ho fatto a sopravvivere come 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 ho fatto a sopravvivere va bene andiamo avanti non ci spieghiamo altre cose intanto intanto io guardo l'orologio che devo sistemare perché non posso guardare a mezzo lato perfetto perfetto si sta scaricando pure la batteria dell'orologino cinese curiamoci è un miracolo io non so come ho fatto a sopravvivere divina provvidenza a quanto pare qualcuno ci ama vediamo se c'è qualcosa non poniamoci le certe domande va sono vivo punto inutile che prendo e tengo la webcam e ci vedo benissimo siamo a scuola è quello l'impieccato no quelli sono impieccati oh mio dio che che visione nulla niente vabbè i bagni non mi scappa anche se per ora sono più spaventato di di tutti gli altri episodi messi assieme ah bene qui non c'è nulla cos'è cos'è oh mio dio che brutto presagio bruttissimo oh mio dio togliamoci dalle scatole ciao dei santini non mi piace scusi anche se non è il mio bagno quindi non dovrei entrare però le bende le piglio bende sangue sembra una battuta anche perché questo è il bagno delle ragazze bende sangue non fai ridere lorenzo non fai ridere lorenzo perché vedo due ombre e io sono quello che si muove piano 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 e non c'è nessuno e già ci sono entrato nei bagni vediamo nel bagno degli uomini basta non sono nel bidello che devo entrare nei bagni guarda guarda la porta quasi aperta sembra invitarci ad entrare mio dio niente a quanto pare dobbiamo andare in libreria apri no 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 non mi hai visto tu io me ne vado ciao no 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 Grazie a tutti No, 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 ciao, me ne vado, ciao Uh, perfetto, perfetto Ciao, salutami la nonna, me ne vado Ho tutta la parentela, dipende quanto siete Me ne vado, ciao Dov'è? Aspetta ragazzi, almeno le bende, le bende, le bende Non le posso più portare a bende Oh, ci sono più crocifissi qua che in chiesa da me Ma perché sono... No, scappa, scappa, scappa Scappa, scappa, scappa Oddio Direi che per oggi può andare bene così Decisamente Allora signori direi che per oggi può andare bene così Sono l'ultimo degli youtuber che sta finendo Outlast 2 Proprio l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo L'ultima persona che finirà questo gioco e invecchierà precocemente Non so se si nota ma mi sta crescendo pure la barba bianca che bello Outlast ti lascia veramente dei bei ricordi Comunque, signori, abbiamo ringraziato Aracris per la bellissima intro Spero vi sia piaciuta perché come ho detto io sono estasiato di questo bellissimo lupo Beh, signori, che cosa dire di più? Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un bellissimo like Iscrivetevi al mio canale Spuntate la campanellina per non perdervi i miei futuri video Vi ricordo pure i miei social qui sotto in descrizione E' il nuovissimo traguardo che mi sono appena imposto Signori, road to mille iscritti Signori, io ci credo Possiamo arrivare a mille iscritti Signori, mille veri lupi Beh, signori, cosa dire di più? Ad un prossimo video Ciao